Bene ragazzi, bentornati in questo nuovo video, inizio dell'anno e come mi sentite dalla voce sono pesantemente senza voce e quindi oggi ragazzi sarà un video veramente molto breve, ma non volevo lasciarvi senza aggiornamenti soprattutto questa prima vera giornata di inizio del nuovo anno 2023 di oscillazione sui mercati insomma di apertura dei mercati con i mercati istituzionali old aperti e poi volevo anche personalmente farvi i miei migliori auguri per un 2023 che sia questa volta si spera ragazzi ricco soprattutto di tanta stabilità e tanta capacità di riflessione anche sul mercato delle cripto e perché no magari tra un po' di tempo anche qualche super pump che potrebbe essere estremamente interessante facciamo un briefing su quella che è la situazione attuale e di come ha chiuso l'anno bitcoin, come hanno chiuso l'anno le cripto andiamo a guardare qualche candela, qualche grafico di oscillazioni, faremo anche un po' di ciclica ma è un video breve ragazzi perché veramente sono a pezzi senza voce perciò lasciatevi anche un mi piace di cuore veramente perché lo faccio veramente con affetto perché mi mancate ogni volta che non faccio il video quindi mi fa molto piacere diciamo stare qui sul canale però veramente oggi una sofferenza abbiamo il grafico di Solana qui davanti ma lo vediamo dopo perché volevo prima aprire il video con l'analisi di quelle che sono le situazioni di bitcoin di lungo periodo ragazzi la candela annuale di quest'anno ragazzi porta un meno 64% di ribasso dall'apertura quindi è stato uno dei peggiori anni di bitcoin nella 2018 l'anno 2018 aveva fatto un 73-74% e l'anno invece del 2014 il 56% poi dopo insomma precedentemente non ci sono i dati questo il grafico di bit stamp andando ad analizzare questa candela quindi sembrerebbe in realtà non un risultato negativo come quello del 2018 ma in realtà non è così ragazzi perché l'anno 2022 è di gran lunga da un punto di vista di analisi tecnica il peggior anno di sempre di bitcoin perché è la prima volta che bitcoin ragazzi fa un pattern di inversione di lungo periodo su una candela di natura annuale ve la faccio vedere in maniera molto chiara questa è una candela che identificata così da un punto di vista annuale quella del 2021 in pratica rappresenta una candela di inversione di medio in questo caso è annuale quindi di lungo periodo perché l'atteggiamento dei mercati nel 2021 è stato quello di tentare la continuazione del trend al rialzo come era avvenuto nei due anni precedenti senza però successo e questo grafico ce la dice in maniera molto chiara evidenzia questa cosa perché la shadow rialzista è molto pronunciata ragazzi questo significa che da un punto di vista di struttura di analisi tecnica questa è una candela di massimo storico di un asset finanziario perché ha creato un massimo poi il mercato non è riuscito a stare in questa zona è andato a chiudere molto al di sotto e a livello di range tra le altre cose ha chiuso in un range quasi mediano quasi inferiore alla metà dell'intera candela questa cosa solitamente è un segnale di debolezza c'è un segnale che indica che il mercato quell'asset in questione è arrivato ad un livello di massimo molto rilevante se non che poi questo tipo di candela viene quasi sempre confermata dalla candela successiva in questo caso la candela annuale del 2022 come con un breakout dei minimi cosa che è avvenuta nell'anno 2022 i minimi erano 27 e 7 breakout questo livello se vi ricordate magari qualcuno di voi ho notato che si ricordava anche quando vi dissi che è breccato il minimo della candela annuale sarebbe crollati a picco in maniera in diciamo senza possibilità di recupero perché dovevamo andare a creare il minimo poi dell'anno minimo che ovviamente è stato molto pesante intorno ai 15 mila nell'anno 2022 ma questa fase ragazzi questa rottura del minimo dell'anno precedente non era mai avvenuta su bitcoin perché le candele di bear market erano tutte delle candele che avevano comunque ritracciato una candela precedente di bull run ma poi non avevano mai breccato il minimo della candela precedente quindi questa figura è una figura di inversione di un pattern di inversione di analisi tecnica estremamente famoso ed è di lungo periodo cosa significa di lungo periodo significa che se dovessimo avere un anno 2023 ragazzi che fa un'altra rossa non ci sarebbe niente di strano una cosa del genere perché semplicemente questa figurazione è completamente anomala rispetto ai precedenti c'è soltanto diciamo un anno che possiamo prendere in considerazione in cui l'anno in cui bitcoin ha breccato i minimi dell'anno precedente ma poi l'aveva recuperati vedete in chiusura cioè nel bear market del 2014 2015 che era durato tutto il 2014 ma poi aveva proseguito nel 2015 perché l'entità del ribasso non era stata sufficiente nel 2014 aveva fatto meno 56 poi ha stampato un altro meno 50 in pratica in questa zona per chiudere il bear market quindi qui il bear market è avvenuto non in un anno ma in un anno è un pezzettino dell'anno dopo dopo di che ha recuperato iniziando la fase di bull run quindi questa candela è un breakout fake breakout di inversione invece di lungo periodo perché è una candela che fa un breakout dei minimi e poi inverte ora ragazzi è chiaro che i minimi dell'anno 2022 a questo punto ai minimi di 15.479 diventano i minimi più importanti per tutto l'anno 2023 per bitcoin perché cosa succede se questi minimi reggeranno bitcoin potrebbe tentare nell'anno 2023 di creare un inside cioè una candela di riflessione dopo questo brusco calo del 2022 e quindi fare una candela creata in questo modo ragazzi magari deve essere obbligatoriamente verde una candela così e potrebbe magari andare a tentare di fare solo rialzo per tutto l'anno e poi scendere l'ultima parte a chiudere magari un po più in basso e fare una cosiddetta candela a bassa volatilità una inside ovviamente ragazzi è poco probabile perché la probabilità più alta come un po tutti quanti insomma si stanno aspettando questo forse potrebbe essere in effetti l'unica arma a favore di una fase rialzista per il 2023 ma la probabilità più alta è che questa candela vada a identificare un nuovo minimo in questa zona e dopodiché vada a creare una chiusura invertita proprio magari con una candela di questo tipo che andrebbe a quel punto ragazzi ad essere una candela molto simile a quella dell'anno 2015 e quindi come se anche nell'anno 2022 dovessimo avere una continuazione come è stato nel 2014 2015 del bear market ancora un pezzettino e dopodiché creare la candela di inversione quindi la conclusione di questo pattern ribassista e che si è venuto a creare ed eventualmente una figura di ripresa che a questo punto dovrebbe essere questo tipo di di candela in pratica ragazzi questo significa anche che noi ci muoveremo da un punto di vista di pattern di analisi tecnica per tutto il 2023 tra questi due tipologie di pattern questo è una hammer e questi sono la morning star e la evening star in pratica il 2021 ha creato come vedete la figurazione della evening star e il 2022 ha confermato l'inversione con una candela verde ve la faccio vedere di nuovo vedete questa è una evening star confermata da una candela rossa che poi ha breccato quindi il minimo quindi l'ha confermata l'inversione se dovessimo avere un'altra pattern di inversione come questa e quindi dovesse ripetersi la questione che il 2023 farà il vero minimo del bear market a quel punto avremo la configurazione di una morning star quindi una figura di questo tipo come vedete quindi una piccola candela di un anno 2023 che avrà un minimo leggermente inferiore all'anno 2022 poi si chiuderà magari in verde oppure una figura di hammer cioè con un minimo molto pronunciato che però vista l'apertura proprio di questi giorni sta identificando in pratica questi prezzi come la questione dell'opening avremo poi un anno del 2023 che dovrebbe chiudere teoricamente al di sopra quindi potrebbe essere una hammer verde o anche un rossa poi dovremmo capire insomma dove andiamo a finire quindi sostanzialmente le ipotesi da attendere in questo anno 2023 che sono le più comuni per bitcoin sono quella della creazione di una morning star o evening star o scusate o hammer che sono appunto questa qui ragazzi o questa qui come figurazione se la identifichiamo andandola a disegnare in pratica il concetto è questo qui poi se va a chiudere magari al di sopra della opening proprio di questi giorni farà una cosa del genere però guardate qui ci sono anche dei livelli di prezzo che adesso andremo anche a vedere molto interessanti che secondo me sono da valutare e questo insomma è quanto ora quali sono i livelli da tenere a mente proprio sulla base di queste considerazioni che è un video ragazzi questa è un'analisi di lungo periodo in pratica dove andremo in un solo video a vedere teoricamente i pivot supporti resistenza dell'intero anno in maniera molto tecnica intanto andiamo a guardare quelli degli anni 2017 2018 2019 hanno qualcosa in comune cioè il livello di massimo 20.000 scusate il livello di close dell'anno 2017 13.800 il livello di opening dell'anno 2018 13.800 ragazzi il livello di massimo dell'anno 2019 13.800 rappresenta per quanto riguarda bitcoin un prezzo estremamente rilevante e perché perché per anni ragazzi non è riuscito bitcoin a superarlo 1 2 3 anni chiudendoci sopra lo toccava ci saliva su ma non ci ha mai chiuso questo significa che probabilmente e questo livello anche se è un po passato poi il tempo è passato però risulterà essere estremamente rilevante in termini di supporto quindi questo è un super supporto per l'anno 2023 che è un supporto da tenere fortemente in considerazione anche in vista del fatto che rappresenta una struttura rilevante anche in termini della candela dell'anno 2020 perché è metà di questa candela quindi molto interessante questo livello al di sotto chiaramente ragazzi ci sono c'è anche la possibilità di fare dei leggeri spike intorno ai 13.000 ma in sostanza questo livello potrebbe essere in effetti il livello finale della di questa fase di ribasso se il mercato dovesse appunto come vi dicevo prima continuare il bear market con un po di fase ribassista e se lo fa bitcoin ragazzi teoricamente dovrebbe farlo proprio entro l'estate del 2023 in quanto andrebbe a quel punto a chiudere quello che è l'annuale ribassista che a questo punto dovrebbe essere iniziato a giugno dello scorso anno questo poi ne parliamo da punto di vista invece di massimo abbiamo dei livelli che sono abbastanza distanti intanto questo è un livello chiave vedete il massimo del 2020 corrispondente anche al minimo del 2021 è al metà di questa candela quindi questo livello che sono i 29.000 dollari sono è un livello di super resistenza a diciamo abbastanza rilevante ovviamente ricordatevi sempre che non è possibile oscillare diciamo sul dollaro preciso perché stiamo facendo un'analisi di lunghissimo periodo quindi ovviamente è intorno a questa cifra ricordatevi sempre il concetto degli intorni io metterò 28 e 2 e in questo caso questa è una resistenza molto rilevante per il 2023 e questo è un supporto molto rilevante morale della favola ragazzi il 2023 potrebbe sviluppare una candela che dai minimi ai massimi può fare un certo punti vedete ma il range in sostanza sarà piccolino quindi non molto molto ampio perché potrebbe diciamo fare un range vedete tra massimo e minimo di 40 50 punti oppure poi da minimo e massimo ovviamente il doppio non perché c'è la questione della probabilità dipende quale tocca prima però teoricamente ci sono delle ottime opportunità anche in quest'anno ragazzi perché qualora bitcoin dovesse andare a toccare uno di questi due livelli primo resistenza primo supporto potremmo sviluppare delle strategie di trading pianificate al dettaglio di buy the tip per esempio o dei short the app che potrebbero essere estremamente rilevanti e essere di lungo periodo ma portare a casa comunque un discreto gain poi diciamo queste sono le strategie che io vado a sviluppare sostanzialmente nella mia academy reseguiremo costantemente questa tecnica che vi sto spiegando oggi ragazzi è una tecnica che serve a tracciare quello che è il percorso magari di una asset finanziario di quello che può fare per l'intero anno poi all'interno di questo percorso è come se abbiamo identificato il cosiddetto ring del 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 mercato poi all'interno di questo mercato andremo a fare le nostre consulate analisi analisi di medio periodo di brevissimo periodo per il trading intraday insomma ci possiamo muovere in maniera più comoda teoricamente però volevo appunto farvi vedere questo che era la struttura secondo me attraverso diciamo di quest'anno dove potremmo vedere muovere bitcoin proprio nel 2023 faremo poi il punto di questa situazione io lascerò questo grafico come sempre per voi e andremo a ragionare un po su tutto allora detto questo ragazzi anomalia sicuramente l'anno 2022 che fa un'inversione andando a beccare i minimi dell'anno precedente cosa che bitcoin non aveva mai fatta l'aveva fatta solo nel 2015 ma non era l'anno della candela rossa era un anno di conclusione del bear market quindi questo atteggiamento non è così grave fin tanto che riusciamo nell'anno 2023 a chiudere questa fase quindi se dovessimo appunto fare la chiusura di questa bear market proprio come questo qui 14 2015 potremmo essere a cavallo voi cosa ne pensate lasciatemi i commenti fatemi sapere cosa e ne pensate cosa vi aspettate anche su questo mercato poi come sempre lasciatemi i pollicioni diciamo in su ragazzi anche perché un video in queste condizioni ripeto che verità veramente senza voce proprio verità il vostro la vostra vicinanza vi faccio vedere l'ultima cosa il rimbalzo di solana come identificato nell'ultimo video che di cui vi avevo parlato probabilmente iniziato un nuovo ciclo trimestrale corto diciamo da 70 giorni proprio su solana di questo magari ne parleremo quando intanto vi ritornerà la voce e poi soprattutto quando faremo l'analisi poi di ciclica anche di bitcoin ed ethereum nel prossimo video per oggi è tutto ragazzi buon anno 2023 senza voce ma col cuore da parte via ci vediamo nel prossimo video ciao ciao